Ragazzi questa è la galleria Duca Arrango di Medellin Guardate che padre queste installazioni Che belle Però vi voglio far vedere Il Fernando Botero Guardate Il Fernando Botero 1,86 m per 1 m 950.000 dollari Poi ci sono altri maestri qua Questo è il nostro consiglio Il Fernando de Sislo è sempre il maestro peruviano Che è morto un anno e mezzo, due anni fa Lui è Guayasamin Osvaldo Guayasamin Equatoriano Anche uno dei maestri più importanti della zona andina E altre cose di Botero Questo è un lavoro antico Guardate che bello questo Questo qua sono io, ciao 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 Grazie.